Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la seconda maglia dell'Italia per la stagione 23-24 in edizione player, la maglia indossata dai calciatori. La maglia indossata dai calciatori, la maglia indossata dai calciatori. La maglia è bellissima. Adidas ha fatto veramente due capolavori. Questa è stupenda. Nella mia classifica prende 5 stelle, il massimo. Bellissima la sfumatura, diciamo che ricorda il marmo. Bellissimi i materiali di questa maglia. Il costo lo vedete qui sopra? Parla da solo. Per questa maglia, voglio dire, è un'occasione che non dovete perdere. In descrizione, qui sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Ora vi lascio la parte finale. Nel frattempo lasciateci un grande like, iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto. Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.